Restate un minuto seduti per favore. Grazie. Vi è piaciuto il concerto? Ottimo. Avete sentito strani versi in certi momenti? Sì! Già, anch'io. Sono fastidiosi, non è vero? La persona che fa quei versi è Brad Cohen. Vieni qui, Brad. Vieni qui. Vieni qui. Vieni qui. Wap, Wap Wap, Wap Bop, Bop Fai i versi per disturbare la gente, Brad? No, signore. Perché li fai? Ho la sindrome di Tourette. Che cos'è? Una cosa nel mio cervello che mi fa fare dei versi strani. Ma tu potresti controllarti se lo volessi? No, è una malattia. Non ci riesco. Beh, perché non ti fai curare? Non c'è nessuna cura. A me non piace fare tutti quei versi, come a lei non piace sentirli. Va anche peggio quando sono stressato, quando lei non riconosce che non lo faccio apposta. Ma quando mi sento accettato, allora non va così male. Cosa possiamo fare? E intendo tutti noi in questa scuola. Come possiamo aiutarti, Brad? Voglio solo essere trattato come tutti gli altri. Bendito. Passi, bendito. Giap, giap, giap. Giap, giap. Giap, giap. Giap, giap. Giap, giap. Poche parole. Un po' di educazione. Ed era come aver aperto una porta su un mondo completamente nuovo. 1288. Quasi 911, uno che ne ero alla porta su un mondo. Quasi non è wifi. Segta parte. Quasi se vuole... Pensa male.